Dopo due anni lo studio epidemiologico della TS sui tumori non è ancora completato e da quanto trapea non sarà pronto nemmeno nei prossimi mesi. Certo, non prima delle prossime elezioni amministrative comunali, il 26 maggio, contestualmente alle europee. Chi sta rallentando l'osservatorio epidemiologico che poteva essere già concluso a fine anno? Molte domande circolavano ieri tra il pubblico dell'Assemblea presso la sala polivalente di Via Maris a Crota d'Adda, tanto più che lo stesso autore dello studio, Paolo Ricci, segnalava le difficoltà incontrate già nell'ottobre 2017 in un incontro pubblico a Buone Merse. Il medico dell'ISDE, Edoardo Bai, nel suo intervento, notava ieri sera che basta un programma informatico per concludere un'analisi statistica sulle cause di morte e di ospedalizzazione, oltre che sulle possibili relazioni con l'inquinamento ambientale e l'anello mancante mai analizzato a Cremona. I dati utilizzati dall'osservatorio epidemiologico provengono dall'anagrafe degli assistiti dell'ATS, dalle schede di dimissione ospedaliera, dalla banca dati assistito, dal registro tumori e dal registro mortalità, tutti quanti già in possesso dell'ATS. Perché allora non si conclude lo studio? La riflessione è emersa dall'analisi dell'ultima conferenza dei servizi presso la provincia, dedicata al compostaggio di sfalciverdi proposto dalla Sovea e si è rapidamente estesa al territorio cremonese. Dai cittadini sale la richiesta di chiarimenti sugli effetti dell'inceneritore, della 21, dell'accia aerei Arvedi e in passato della Tamoil, in questi anni delle polveri sottili. La politica però non dimostra alcun interesse e infatti nessun partito ha nemmeno commentato l'ultima diffida ricevuta dall'accia aerei Arvedi. Di conseguenza giovedì un gruppo di donne consegnerà al direttore generale dell'ATS, Salvatore Mannino, un sacchetto di polvere raccolta a spinadesco per chiedere un'analisi chimica, per arrivare a individuare le fonti inquinanti e scoprire che rapporto può esserci con i dati dei ricoveri ospedalieri, più alti a crotta che nei dintorni e dei tipi di tumore per alcuni tipi più elevati nel cremonese che altrove.